Napoli è un nuovo brano e anche un video che stiamo girando anche con Germano che si è gentilmente prestato. Noi Napoli la vediamo come un posto molto bello e quindi pensiamo che se ognuno di noi si sente rappresentativo di questa città la città sicuramente dimostrerà come nei secoli e nei millenni ha già dimostrato di essere uno dei posti migliori del mondo e quindi con Germano riusciamo a rappresentare non la bellezza, no, rappresentiamo la sostanza che si mangia bene a noi senza che pensate che poi ogni cosa da dove viene, usate a fare le domande questi pomodori, questa mozzarella, è tutto buono, guardate come siamo belli, sole, mare e sostanza la pizza ci vuole, noi siamo oleografici ma la pizza da Napoli è buona, ma manca tante altre cose, pure i dolci e i dolci, e Napoli siamo noi comunque, siamo tutti noi ok io 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 io